Di nuovo insieme marcia di avvicinamento all'Election Day di giugno che passa dalla tre giorni in Puglia di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. Presidente, grazie per essere con noi. Grazie a voi per questa occasione di confronto. C'era tanta attesa su queste tre giorni perché era quella subito dopo il terremoto giudiziario, perché era quella dopo l'addio ai banchi della Giunta in Regione, perché era quella che apriva le europee. Se ne era andato un mese fa con persino l'accusa di usare la questione morale come una clava per tentare il sorpasso alle europee. Come l'ha trovata? Soddisfatto di questi tre giorni. Come torna nella Capitale? Innanzitutto raccolgo con mano, tocco con mano una grande attesa da parte della cittadinanza. Questa cittadinanza ha voglia di dare un contributo per il governo della città. C'è un clima di vigili attesa. Io spero che sia proficuo per impostare una proposta politica che sia di rinnovamento. Utile anche a valorizzare quel che è stato l'esperienza amministrativa trascorsa. Però sicuramente dobbiamo anche rilanciare, dobbiamo guardare al futuro e dobbiamo anche migliorare. Noi siamo particolarmente attenti, lei lo ha ricordato, ai principi di legalità, di trasparenza, di buone pratiche virtuose amministrative. Quelle accuse che mi sono state, che lei un po' ricordava, che mi sono state mostre sono accuse ovviamente strumentali di chi vuole, non vuole che cambi nulla e che quindi eventualmente anche forme di opacità continuino a manifestarsi anche in futuro. Questo noi non lo consentiremo. Quando siamo venuti qui l'ultima volta, lei ricorderà, eravamo a tre giorni dalle primarie dovevamo fare il campo progressista, però qualche ora prima è scoppiata la seconda importante inchiesta proprio sullo scambio politico mafioso tra gli altri. Era impossibile far finta di nulla, era impossibile continuare a recitare una sorta di quella che poteva risultare una messa in scena. Quindi tutti insieme, con la Foggia, con le altre forze eccetera, abbiamo dovuto prendere atto che non c'erano le condizioni per far finta di nulla. Allora, visto che le cita, gliela chiedo subito, gliela avrei fatto un po' più in là, lei ha detto che saranno primarie direttamente nelle urne. Con la possibilità di un patto di non belligeranza di alleanza, un attimo dopo se dovesse essere ballottaggio, come si fa a tornare fianco a fianco con un alleato del quale si teme che in un modo o nell'altro non abbia saputo tenere così alta l'asticella. Ma guardi, a parte che abbiamo dimostrato nella regione Puglia non solo di essere disponibili a un grande sacrificio, cioè lasciare degli incarichi delle poltrone, cosa che nessun partito politico mi risulta abbia mai fatto in nome della legalità e della trasparenza. Ma secondo noi non è che siamo, come dire, demolitori o negativi. Abbiamo anche un approccio costruttivo. Nello stesso giorno abbiamo portato in regione Puglia un patto per la legalità, una proposta di legge per costituire un nucleo di ispettori che possono vigilare su tutti i gangli e su tutto quel dipanarsi di azione politica amministrativa a tutto tondo, che possa riguardare gli staff, i consulenti, che possa riguardare anche le nomine delle partecipate. Si farà lo stesso con la prossima amministrazione comunale? Cioè dobbiamo creare degli antidoti, degli strumenti, rafforzare gli strumenti per prevenire il malessere e le possibili infiltrazioni anche della malavita. Tanto che il candidato si è impegnato sul punto. Parlava del patto in regione. Questa settimana sulla risposta della regione a quello che è successo ci sono almeno due lettori. La prima è quella di Nichi Vendola, da presidente di Sinistra Italiana, che torna in Puglia e parla di gelata della primavera pugliese, di PD prigioniero politico, di rimpasto burletta. Poi c'è la sua che è un po' più fiduciosa. Ha detto io sono fiducioso, i nostri staff sono già al lavoro. Ci sono dei segnali. E' pessimista Vendola e' ottimista lei? Guardi, noi abbiamo un approccio molto coerente con i principi. Noi riteniamo che la politica senza principi sia misera. Ma nello stesso tempo abbiamo anche un approccio molto pragmatico. Cioè, come ho detto, a noi interessano i fatti. Adesso i fatti sono al momento che i nostri staff regali, i nostri del Movimento 5 Stelle e della regione Puglia, stanno lavorando e concordando su quelli che sono i dettagli tecnici di questo patto della legalità, di questa proposta di legge per il nucleo degli ispettori. Poi ovviamente bisogna tradurre tutto questo con la volontà politica. Se tutto questo accadrà, noi avremo dato un contributo, perché la regione Puglia addirittura possa diventare, non voglio esagerare, ma sicuramente possa irradiarsi dalla Puglia uno schema, una proposta, un modello anche alle altre regioni. E quindi io vado ai fatti. Poi se dovessimo domani mattina constatare che questa volontà politica è di voltare pagina, di rinnovare completamente l'impostazione, le finalità, gli obiettivi e i criteri con cui si ripara l'azione amministrativa regionale, questa volontà politica non c'è, ne prenderemo atto. Ma adesso stiamo lavorando per realizzare questi obiettivi. Quindi possiamo smontare il mito di un possibile rientro in giunta dopo l'Europa? Non è il nostro obiettivo, non è adesso. Ma il nostro obiettivo non è questo, non è che abbiamo fatto una finta oppure abbiamo detto adesso lasciamo domani mattina, rientriamo e rivogliamo i posti, assolutamente. Tant'è vero che c'è stato, lei ha nominato anche un rimpasto. Questo rimpasto a noi sostanzialmente ci lascia mini, grande, non ci importa, è indifferente. Non abbiamo detto che avete nominato, dovete sentirci, consultarci. Il Presidente Emiliano ha fatto un rimpasto, si assume le responsabilità politiche di queste scelte. A noi interessa invece un altro obiettivo, a noi interessa l'azione politica futura e amministrativa. E su quello che valuteremo e sui criteri, sulle premesse per migliorare questa azione e renderla più trasparente che ci misureremo. Intanto ci sono le europee. Torno in Puglia per presentare la lista dei suoi, la guida al sud Pasquale Tridico. Poco fa avete rilanciato il reddito di cittadinanza europeo, manca l'asticella, però su quella dite noi asticelle non ne mettiamo, l'importante è che i cittadini colgano di essere al vivo. Poi manca la famiglia d'elezione, nel caso. No, no, guardi che ci sono tantissime cose. Lei va a cercare le mancanze. Innanzitutto diciamo che cosa c'è. C'è una grande partecipazione democratica, perché vorrei ricordare ai cittadini che da noi le liste sono state fatte con le votazioni interne. Ciascun iscritto, anche l'ultimo iscritto, ha potuto partecipare, ha potuto contribuire alla selezione dei candidati per le europee. Poi ovviamente, io me ne sono assunto io la responsabilità, ci sono stati alcuni innesti di grandi personalità. Per esempio per questa circoscrizione sud abbiamo capolista Pasquale Tridico, un grande economista, ex presidente dell'Inps. Poi abbiamo un euro parlamentare uscente, che è il nostro foggiano, Mario Furore, che si è comportato con disciplina onore. Quindi ho voluto, come dire, segnalarlo alla nostra comunità interna. E poi c'è Maurizio Sibilio, prorettore dell'Università di Salerno, altro grande innesto che ci apporterà anche lui un vantaggio in termini di maggiori capacità, maggiori competenze, soprattutto del capo della pedagogia. Lei pensi un attimo alla fesseria che ha detto Vannacci, che ha parlato addirittura, ha ipotizzato delle classi separate per gli allunni con disabilità. Però ha detto di essere stato frainteso. Ecco, lui si fraintende, dichiara, si autofraintende e poi si corregge. Ovviamente il nostro Sibilio gli sono rizzati i capelli, perché dopo decenni e decenni di indirizzi pedagogici, assolutamente il segno dell'inclusione sociale, dell'inclusione educativa, sentire queste stupidaggi, ovviamente noi abbiamo subito le competenze per addirizzare quelle che sono le sciocchezze che vengono dette in giro. Lei non corre, non hanno il nome nel simbolo, c'è la parola pace. Corre però Giorgia Meloni, della quale lei ha detto che è un polle di tax. Come fai a dirti del popolo se poi non porti a casa i risultati? Potrebbero dirle, ma come i numeri dell'Istat sull'occupazione sono buoni, quelli sulla disoccupazione pure? No, guardi, a parte che è un'onda che è iniziata con noi ed è iniziata, anzi noi con il nostro decreto di dignità, abbiamo dato un contributo perché il numero degli occupati migliorasse nella qualità del lavoro, molto più sul suo tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato. Se andiamo a leggere questo trend che si sta risaurendo perché ormai il sistema economico sta andando in depressione con due leggi di bilancio che non hanno apportato nessun vantaggio, nessun incentivo anche alle imprese, nessun incentivo alla competitività delle imprese e stiamo ritornando alla crescita dello zero virgola, noi non abbiamo grandi prospettive neppure sul piano occupazionale. Tenga conto se andiamo a guardare anche la soglia tra i 35 anni e i 49 anni, che la soglia centrale dell'occupazione è assolutamente statica, cosa fanno? Fanno saltare quota 100, fanno saltare opzione donna, quindi si prolunga l'età, si allontana l'età del pensionamento. E' una illusione quella che si stia creando maggiore occupazione. Sono cresciuti tantissimo i numeri dei cassi integrati che vengono anche considerati nell'ambito del piano occupazionale. Avevamo decontribuzioni sunda, adesso tocca ritrattare. Assolutamente, con questo tocchiamo una nota dolente, perché questo governo già col PNRR, dove con queste riformulazioni, con questa ambiguità, anche nella riscrittura del PNRR, non ci sta facendo capire quali sono realmente i progetti a favore del sud. Adesso abbiamo anche la carcelazione di decontribuzione sud. Ci ha consentito nel biennio 2021-2023 più 3,7 milioni di lavoratrici e lavoratori in più. E' fondamentale per gli imprenditori del sud, per chi fa impresa al sud, avere un incentivo, uno sgravio fiscale per le assunzioni e per tutti i lavoratori, visto che c'è un divario sul piano delle infrastrutture, sul piano dei servizi, tantissime difficoltà ambientali in più rispetto a chi fa impresa al nord. Questo governo è responsabile e doveva negoziare per il prolungamento di questa misura. Noi avevamo impostato che fosse decennale. Non ha fatto nulla fitto a Bruxelles per negoziare. non hanno la forza, non hanno la capacità, non riescono a esprimere neppure una forza temperamentale, caratteriale per farsi valere. Stanno lì a prendere ordine, a Washington, a Bruxelles. Ma che li abbiamo mandati a fare? Ma non sono i patrioti. Come la chiudiamo con Bari-Città della Pace? Lo dice un pugliese a due giorni da... Assolutamente sì, assolutamente sì. Per noi in questo momento la cosa più importante è cercare di lavorare tutti a livello di amministrazioni locali, amministrazioni regionali, nazionali, vorremmo che il governo nazionale, ma soprattutto i nostri euro parlamentari saranno messaggeri di pace. Questo significa che l'unica soluzione, l'unica via d'uscita, ormai lo dovremmo aver capito tutti, spero che tutti i telespettatori abbiano compreso, per porre fine al conflitto russo-ucraino e impostare un negoziato di pace. Ci hanno venduto una vittoria a portata di mano militare sulla Russia, un crollo dell'economia russa, nulla di tutto questo. L'unica possibilità è investire sul negoziato serio di pace. Ecco perché qui Bari, una città che in qualche modo è all'interno di una culla ideale mediterranea, una città che ha sempre si è aperto a tante civiltà, deve lanciare un grido di pace e di sentir forte anche in virtù di San Nicola, mi permetto di dire, si deve far sentire anche in Ucraina, anche in Russia al centro di quel conflitto. Ovviamente la cessazione del fuoco riguarda anche il massacro in corso a Gaza. Dopo il massacro non le posso chiedere se si sente ancora un alleato potenziale, come ha detto Elislein? Però con un flash sì. Ma noi stiamo lavorando col PD, lavoriamo in tante amministrazioni, sosteniamo il più delle volte addirittura i candidati del PD, quindi veniamo descritti come quelli che cercano di fare lo sgambetto al PD. Mi sembra invece che la generosità sia molto più da questo lato, se guardiamo ai numeri e ai dati concreti. La verità è che siamo esigenti, ma sa perché siamo esigenti? Sì, perché c'è una storia del Movimento 5 Stelle che inizia prima che arrivassi io, è una storia fatta di legalità, di contrasto alla corruzione, di lotta contro tutte le mafie. Io quella storia non la tradirò mai, ma contribuirò con le mie poteste forze a preservarla e a rilanciarla. L'ha detto guardando in camera come si fa a ridosso del vuoto, basta e avanza. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie a voi davvero. Un saluto ai telespettatori. Grazie a tutti.